Presidente Renzi, buongiorno. Lei ha concluso il suo intervento poc'anzi parlando dell'Olivetti, una gloriosa azienda italiana. Le vorrei soltanto ricordare che chi ha contribuito alla distruzione dell'Olivetti dal 1985 al 1996, bruciando 15.000 miliardi di vecchie lire, è stato De Benedetti, soprannominato tessera numero uno del Partito Democratico. Lei dopo domani andrà in Europa a parlare di immigrazione. Bene, quando incontra la Merkel e le faccia questa semplice domanda, tu hai idea di quanto ci si guadagna sugli immigrati? Il traffico di droga rende meno. Queste parole le pronunciò Salvatore Buzzi, uno dei boss di Mafia Capitale, attualmente in carcere per associazione mafiosa, nonché grande finanziatore Presidente Renzi del suo partito. Non solo, Buzzi era presente alle sue cene di finanziamento, le cene popolari da 1.500 euro a persona. A proposito, quando ci farà avere gli elenchi di chi vi partecipò? Perché non risponde? Di cosa ha paura? Di infastidire qualche suo facoltoso sostenitore? O magari di far sapere all'opinione pubblica che Buzzi non è l'unico suo commensale che hanno arrestato? Sull'immigrazione si fanno più soldi che con la droga. Perché a lei questo non glielo sentiamo mai dire? Perché le abbiamo sempre sentito ripetere che serve più Europa, ma mai che sugli immigrati ci si fanno più soldi che con la droga? Questo è il punto, Presidente Renzi. Lei si è appropriato di alcune proposte del 5 Stelle, il che tra l'altro a noi va benissimo. Basta che appunto le porti a compimento. Se le ricorda le nostre proposte dal superamento del regolamento di Dublino che voi avete firmato all'istituzione di quote massime di migranti per paese, tutte soluzioni studiate, presentate e fatte approvare qui alla Camera dal Movimento 5 Stelle. Sono idee logiche, ma fino a quando in questo paese non verrà spezzato quel legame criminale tra politici e immigrazione, intesa come possibilità di fare affari sui disperati, beh anche le buone idee da portare in Europa saranno inutili. Questo lei lo sa benissimo, ma per squalli di giochi di potere, per osceni calco elettorali e sporche manovre di palazzo, lei sta ferma, immobile, perché rompere quel legame significherebbe rompere alcune alleanze di governo. Castiglione, se lo ricorda, è sottosegretario del suo governo, è l'uomo forte di nuovo centrodestra in Sicilia. Nuovo centrodestra, il partito di Alfano, il partito che politicamente la ricatta, un partito che ormai ha più indagati che elettori, un partito tuttavia che le consente di approvare le sue leggi al Senato come l'ignobile riforma costituzionale Renzi-Verdini. Castiglione è sempre al suo posto, nonostante sia finito sotto inchiesta nello scandalo del Cara di Mineo, il centro di accoglienza richiedenti asilo più grande d'Europa. Sempre la stessa storia, politici che favoriscono le cooperative, le quali ovviamente restituiscono i favori alla politica. Come? Assumendo amici dei politici e finanziando i partiti stessi con centinaia di migliaia di euro. Lei andrà in Europa a parlare di immigrazione, ma con quale credibilità? Ma se li vede Hollando la Merkel confermare un sottosegretario indagato in uno degli scandali peggiori degli ultimi anni? Lei non prende posizioni su Castiglione perché servono i voti del nuovo centrodestra in Senato? Una manciata di voti al Senato per aumentare il suo potere personale valgono la perdita di dignità, Presidente Renzi? Ma per lei la politica è tutto questo? Per lei i voti non avranno odore, come il denaro evidentemente, lo stesso denaro che vi siete spartiti appena tornati dalle ferie qui alla Camera e lei era uno favorevole all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Esca dal tunnel, esca dal tunnel delle menzogne, è una strada che la porterà alla rovina. Lei vive in una tragica condizione, Presidente Renzi, quella dell'impostore costretta ad aumentare ogni giorno la dimensione delle proprie falsità, per dare l'idea di un flusso inarrestabile, un flusso di balle che ha come unico obiettivo intontire i cittadini, confonderli, distrarli, allontanare il più possibile il giorno del giudizio, che però arriverà, arriverà, Presidente Renzi. L'immigrazione clandestina qui in Italia è la nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. Lo ha detto in Europa? È tutta una questione di soldi. Glielo dica in Europa. Gli dica che in Italia non soltanto gli immigrati, ma anche i malati, non sono considerati esseri umani, ma mezzi per fare soldi. Proprio ieri hanno arrestato in Lombardia il Vice Presidente della Regione, Mantovani per corruzione. Lo scandalo riguarda appalti truccati sul trasporto dei malati che vanno a fare la dialisi. Mangiare su una rotatoria è osceno, ma mangiare sull'emergenza abitativa, sugli immigrati, sulla sicurezza nelle scuole, sui malati che vanno a fare la dialisi è da miserabili. Ma lei non era quello del DASPO per i corrotti? Noi l'abbiamo presentato il DASPO per i corrotti. Il suo partito, Presidente Renzi, l'ha bocciato. Evidentemente il DASPO, oltre che ai ladri, andrebbe dato a quei politici che annunciano e non realizzano. A proposito, Presidente Renzi, dica in Europa anche che con il nuovo Senato, che lei e Verdini avete disegnato, lo stesso Mantovani, attualmente in carcere appunto per corruzione in ambito sanitario, sarebbe senatore e nessuno lo avrebbe arrestato. La corruzione nella sanità pubblica ci costa 6 miliardi di euro all'anno, lo sapeva, ma questo non lo dica in Europa. Piuttosto dica loro che in realtà per lei il problema non sono i ladri che lucrano sulle sofferenze dei malati, ma i medici che prescrivono troppi esami clinici. Lei si vanta di una fantomatica crescita economica nel nostro Paese, secondo il DEF stimata nello 0,9%. Perché non dice che il Fondo Monetario Internazionale ha stimato una crescita media dei Paesi dell'Eurozona dell'1,5%, 3,1% per la Spagna, 1,5% per la Germania, 3,6% per l'Irlanda? Cioè, nonostante un petrolio così basso e nonostante una massiccia emissioni di capitali da parte della Banca Centrale Europea, l'Italia cresce solo dello 0,9% e lei si vanta di questo dato. È come vantarsi che la disoccupazione giovanile sia scesa dello 0, qualcosa quando è ormai ampiamente sopra il 40%. Il dramma che avete fatto pure questo. Proprio voi che nel 2010 chiedevate a gran voce le dimissioni del Presidente Berlusconi perché i giovani senza lavoro erano al 29%. La verità è che in questo Paese l'unica cosa che cresce è la paura. Viviamo nell'epoca della paura, paura di perdere il lavoro, paura di non trovarlo mai, paura per quel che respiriamo, paura per quel che mangiamo, paura che arriverà il giorno e che non avremo nulla da mangiare, paura di ammalarsi e paura di fare un figlio. Anche voi potenti della Terra avete paura, avete paura di un popolo informato e anche le lobby delle armi hanno le loro paure su tutte quelle della mancanza delle guerre. Ma ci sta pensando il Ministro Pinotti a fargliela superare, vero? Prima parlando di un nostro fantomatico intervento in Libia è ora di un possibile bombardamento in Iraq. Nell'epoca della recessione mondiale soltanto un'industria non entra mai in crisi. Quella della paura aumenta il consumo di droga e soddisfa chi ha paura di vivere, aumenta chi compra un'arma per farsi giustizia da solo e in tutto questo però diminuiscono le risorse per le forze di polizia, per la Guardia di Finanza e per i carabinieri, ovvero per tutti coloro che ve ne arrestano uno al giorno. Così si prendono due piccioni con una fava, non è vero? Si indebolisce la lotta all'illegalità e contestualmente si soffia sul fuoco della paura perché grazie alla paura si manipola il popolo, grazie alla paura si possono sacrificare le libertà dal diritto di scioperare a quello di farsi curare gratuitamente. Sulla paura si vincono e si perdono le elezioni e voi pensate sempre e soltanto a questo. Nell'epoca della paura le mafie hanno meno ostacoli per infiltrarsi un po' dovunque, dal Campidoglio Altav, dagli ospedali agli storici comuni rossi. Si infiltrano sfruttando la distrazione e l'opinione pubblica occupata a stare dietro alle menzogne dei politici o intenta di individuare ogni giorno nuovi nemici. Oggi da una parte il buonismo di sinistro, la xenofobia dei conservatori più beceri hanno creato un nuovo nemico, l'immigrato. Lei, Presidente, con i poteri forti ci va a braccetto. Lei si scontra con gli operai che perdono il lavoro, con gli insegnanti deportati, con chi sciopera, con gli studenti, con i piccoli imprenditori che combattono contro Equitalia. Lei si scontra con la stragrande maggioranza di cittadini italiani. Mai una volta che si scontrasse con chi per errore bombarda un ospedale in Afghanistan, con chi vuole privatizzare la sanità, con le case farmaceutiche, con i concessionari di gioco d'azzardo, con loro temi lo scontro. Anche se ultimamente pare che più che degli scontri lei tema gli scontrini. A proposito, tornerà in Parlamento a rispondere nel merito sulle questioni che riguardano le sue spese e tempi della Presidenza della provincia di Firenze? Su via, per lei Marino ha perso di credibilità per delle cene, mentre noi sappiamo benissimo che ha perso di credibilità per molto altro. Non vorrà perdere anche lei i rimasugli di credibilità che le restano per le sue spese pazze? Torni qui, una sola volta, parleremo di tutto quello di cui lei non ha il coraggio di parlare, dai suoi scontrini alle sue telefonate con quel generale della guardia di finanza al quale confidava le sue manovre di palazzo, gli dica di stare calmi ai suoi. Dal suo sostegno al sottosegretario Castiglione al conto che Buzzi ha pagato alle sue cene. Ci risponde sempre su tutto e risponde anche su questo. Lo so che vorrebbe abolire l'opposizione, ma difficilmente ci riuscirà. Anche perché, avendo militato nel PD nell'era berlusconiana, la parola opposizione non le ricorderà davvero nulla. Noi siamo questo, l'opposizione, l'unica che lei davvero teme. Perché gli altri chi sono? Alfano, ma se sta con lei e si vanta di dettarle l'agenda di governo. Berlusconi, no, con lui c'è profonda sintonia. Verdini, ma se ci ha scritto la riforma costituzionale insieme. Salvini, no, con lui ci vota e ci voterà anche oggi il finanziamento pubblico ai partiti. Dica tutto questo in Europa e dica anche che mentre in Germania e in Francia per assegnare lo status di rifugiato ci vogliono da tre ai sei mesi, in Italia ce ne vogliono dai dodici ai diciotto. E quando le chiederanno e perché? Gli dica che ogni giorno che un immigrato passa di più in un centro, una cooperativa legata a dei partiti politici guadagna 35 euro. La cooperativa, non l'immigrato. Gli dica anche che il Movimento 5 Stelle ha proposto l'immediata assunzione di 15.000 giovani italiani formati ad hoc da inserire nelle commissioni territoriali che devono smaltire le richieste di asilo. Glielo dica che stiamo studiando problemi su problemi e stiamo individuando soluzioni su soluzioni. Dove troviamo i soldi? I soldi ci sono. Basta tagliare quelle spese folli come quei 175 milioni di euro che lei intende spendere per comprare un nuovo aereo blu per assomigliare ad Obama, come se la qualità di un uomo politico dipendesse dal suo mezzo di trasporto. La qualità di un uomo politico, Presidente Renzi, si basa sulla congruenza tra quel che dice e quel che fa. Dica tutto questo in Europa e aggiunga che nella bistrattata Italia, nell'Italia di mafia capitale, delle mazzette nella sanità, nell'Italia dei funerali mafiosi c'è chi crede che il proprio voto, la propria onestà e le proprie idee non abbiano prezzo. Buona giornata.